L'esercito non mi fermerà mai, non ha alcuna speranza contro di me, sono buonissimi Soprattutto questi gialli che hanno il gusto di fanta, e tu cosa sei? Un potenziamento, vieni qua lancio esplosivo, voglio vedere se ti riesco a sfruttare per bene E vai camion scelgo te, uuuuh, sì l'ho decisamente sfruttato bene Oh guys, salve a tutti, sono i spi giochi, benvenuti in Mostro Simulator Oggi gente, sono diventato per voi un incredibile mostro, una sorta di nuovo King Kong E il mio compito è radere al suolo questa città, con i miei poteri e la mia potenza Come? Il lanciare macchine, il distruggere palazzi, l'ottenere questi strani potenzialmente, tu cosa sei? Uuuuh, visione a raggi X, oh che figata, questa cosa mi permette, penso, di individuare i punti deboli di questi grattacieli Per poterli colpire e farli crollare in un battibaleno, senza dover spaccare finestra per finestra Guardate, riusciamo a vedere anche l'interno di queste strutture, fantastico Vieni qua ciccio, dove ti nascondi, punto debole Vediamo se riesco a prendere qualcosa in cui raggiungere il punto debole all'interno del grattacielo Tipo, che ne so, qualche monumento che posso, uuuuh, lanciare e spaccare un sacco di cose Ma tu, caro mio, ha tirato la mia attenzione, vieni qua, vieni qua ciccio, non puoi scappare Vieni qua, un bel, uuuuh, pasto, che mi ridà un bel po' di salute E mi permette gente di essere ancora più energico e di distruggere questa città in men che non si dica Vedrete, gente, presto assisterete al crollo di un gigantesco grattacielo, se soltanto riuscissi a spaccare questo supporto Eeeetac, ok, ora dovrebbe andare bene, eliminiamo gli altri supporti e faremo crollare il nostro primo grattacielo Che possiamo tranquillamente scalare in maniera incredibile, guardate, altro che simulatore di Spiderman Questa volta sì che mi sento re di questa città Se soltanto trovassi questi supporti, oh, le ho trovato, ecco il 2 su 4 Ce ne manca un altro solo, penso, e poi questo edificio sarà bello che è crollato Cos'è questo? Oh, un lancio esplosivo, che figato, voglio assolutamente provarlo Banzai! Oh, piano, 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 ok, ora devo con molta calma prendere un'automobile e lanciarla Sì, mio Dio, esattamente come pensavo, funziona a rendere esplosive tutte le cose che lanciamo e provocando un sacco di danni E la madonna, mamma mia, nemmeno la necessità di trovare altri supporti Che l'intero palazzo è crollato, peccato che il nostro maledetto lancio esplosivo sia già finito Perché ovviamente è troppo, P, non può durare tanto, e tu? Oh, sei un piccolo snack al volo Mmm, mi piace, non pensate che sia così tanto rose e fiori, gente, la vita del mostro Perché presto arriverà l'esercito a Nerciabada, questo già lo so, già me l'hanno anticipato Però io cerco di fare più danni possibile prima che arrivi a mettermi il guinzaglio Quello che farà, oh, piano, 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 dannazione, mi sono staccato da... È arrivato? Oh, perfetto Per fortuna mi sono lanciato all'indietro, mi sono staccato dal palazzo Perché ho visto che qualche soldatino è arrivato Come spuntino, vieni qua, vieni qua, guardate che ombra mostruosa che ho Non so di preciso come sono fatto perché noi mostri non sappiamo usare gli specchi Però usate un po' la fantasi... Tu sei invulnerabile, vieni qua, non sei così tanto invulnerabile Quando ti getto contro una barriera di energia Aspettate un attimo però, fermi, fermi un momento Mi pare di aver visto qualche strano effetto sbrilluccicante qui Non è che c'è un potenziamento nascosto, oh sì, se vedo ancora più sbrilluccicare E toglietemi stupidi attriti, cacchio, ok Eccolo qui un'altra visione a raggi X che mi permetterà di capire dove sono i punti deboli Oh, i punti deboli di questo grattacielo Ok, se distruggo anche questo palazzo Questo quartiere della città verrà praticamente raso al suolo Vieni qua, ciccetto Vieni qua, ti piace Quando Espi ti ripugni Oh, mi è caduto il punto debole Spero che lo consideri come distrutto Sì, due su due distrutti Ora assistiamo al bellissimo Crollo di questo grattacielo Grazie alla potenza infinita Del nuovo King Kong Espi, wow, e ora dove sono finito? Oh, ma siamo in un altro quartiere della città Che figata, e questa cos'è? È una sorta di strana sfera blu Spero che non sia un buco nero Ok, no, non è un buco nero Sembra... Oh, guardate lì cosa c'è In fondo ci sono dei birilli giganti Ok, abbiamo capito che questa città Non è una città come le altre Ma ha molte stranezze come questi birilli giganti Immagino che debba fare strike O comunque colpirli con questa palla Per fare qualcosa di particolare Magari un achievement Qualcosa di... Ok, a quanto pare Ne ha distrutti un po' Però questi birilli magari possono essere utilizzati In maniera migliore Tipo... BAM Contro i grattacieli Eh, la ma... Quanti tagli ha fatto? E' uno dei birilli più devastanti Che abbia mai visto Ma in realtà non ho visto molti birilli devastanti Dannazione, alcuni sono mezzi buggati Prendetevi co... Ah, soprattutto quello Va bene, ciao alla prossima Anche ucciso un povero passante Che camminava di lì E tu invece come ti prendo? Vediamo Ma sono due... Due birilli gemelli Gemelli siamesi a quanto pare Che sono schiantati insieme Uh, uh E tu? E tu cosa fai qui? Eh, la ma... Ma quanto potenti sono Questi cartelli stradali Che sfondano i grattacieli Comunque mi pare di aver visto Uno sbrilluccichio da queste Eccolo qua Un altro colpo esplosivo Voglio assolutamente utilizzarlo bene Vieni qua Per favore non esplodermi fra le mani Eh, porca miseria ogni volta Non riesco a controllare la mia forza Ok, tu non esplodermi fra le mani E vai Contro il grattacielo Oh, guardate Che devastazione Qualcosa di incredibile Ci sono altri power up qui Perfetto Una catena di potenziamenti Che mi renderà praticamente invincibile Un altro tiro esplosivo Che voglio utilizzare con quest'auto Vai contro il grattacielo No, non vuole esplodere Vai contro ma Cosa succede? Eh, vabbè Eh, vabbè Ma cosa sta succedendo qui Impressionante Ok, utilizzerò voi Belle autopompe Per seminare Panico distrutta E anche voi però Perché rimbalzate Ste fatte di gomma Oh, finalmente Con queste Belle Auto Più il nostro tiro esplosivo Abbiamo tirato giù Il primo grattacielo Di questo quartiere Ora tocca a voi Ciccetti Ehi, aspetta Ma qui sembra esserci Un altro potenzio Cos'è? È un fossile Un qualcosa di strano Uh, mi sento decisamente Più forte Almeno penso Che questa cosa Mi potenzi In qualche maniera Non sono sicuro Ma ha abbastanza senso E già sento Lo sparacchiare Dei soldati Che dall'altro quartiere Si sono spostati Mi hanno raggiunto qui Perché ho tirato giù Il mio primo grattacielo E ho innescato un po' La loro incazzatura Ma tu sei viola Oh, ma il gusto di lampone Che bello Non pensavo Facessero gli umani Il gusto di lampone Mentre tu Ah, tu sei soltanto sudato Che schifo Piuttosto, piuttosto Sentiamo invece Che sapore hanno Questi bei militari Che un po' Mangeremo Un po' Butteremo in giro Perché ci fanno Anche leggermente schifo E, oh no Continuano a sparare Mi stanno diventando Sempre più cattivi Rispetto alla volta precedente Ok, devo assolutamente Tirare giù qualche altro grattacielo Devo concludere Velocemente Questa mia distruzione Prima che chiamino Rinforzi È il momento di capire Come funziona Questa città Non ho mai scalato Un grattacielo Fin in cima Soprattutto un grattacielo Così grande E sono veramente curioso Di quello Che potrò trovare Oh yes Oh mamma mia Sì, da questo posto Sicuramente mi sento Decisamente come King Kong Mi sento il re del mondo Il re della città Ma Bene gente Lo sapete Che il mio obiettivo Non è quello Di dominare questa città Ma di distruggere Di là del suolo E perché non iniziare A bussare gentilmente A questi appartamenti Per farsi aprire Salve signori C'è qualcuno in casa Soprattutto C'è qualche potenziamento Interessante Uno sì A quanto pare Vieni qua Visionare GX Perfetto Altri punti deboli Da colpire Uno di questi palazzi Sicuramente Andrà giù L'esercito Non mi potrà mai fermare Ok Dovrebbe essere qui Se non sbaglio Esatto Qualche colpettino E dovremmo aver sistemato Anche questo grattacero Edda E crolla ciccetto Porca miseria Sei più resistente Degli altri Non provare oppure Resistenza Vai giù Anche tu Che non ho tempo Da perdere Sono Un King Kong Molto impegnato Mio Dio Sei stato difficile A batterti Vieni qua Un piccolo snack Per recuperare energia E ora via Oddio Che è che mi sta sparando Porca miseria Un sacco di proiettili Ok Ora l'esercito Si è decisamente attivato Contro di me Quindi devo sbrigarmi Alla grande No cosa sono queste cose Delle camionette Con mitragliatrici Venite qua Ciccette Venite qua Mamma mia Come le schiaccio Mamma mia Come le lance Qualcosa impressionante Voi finite il mio stomaco Perché assolutamente Ho bisogno di un sacco di vita Non so nemmeno Quanta me ne stanno togliendo Ma potrebbe essere decisamente Decisamente rischioso E non voglio perdere Giusto ora Non voglio perdere Proprio adesso Quindi tiriamo fuori Tutta la nostra strategia Da Godzilla King Kong Quello che volete Che siamo E vediamo Di avere un po' di fortuna E beccare questo Lancio esplosivo Perfetto Ora devo soltanto Trovare qualcosa Da lanciare Contro i grattacieli Perché voglio farla finita Voglio distruggere Un altro grattacielo E vincere Anche in questo quartiere Porca miseria Perché non funzionano Metà di questi veicoli E quando è che si decidono Di inventare le persone esplosive Che cacchio Oh no Ma queste non l'ho notato prima Ma sono nuove truppe Sono truppe di colore giallo Sono più potenti Una mitragliatrice E quindi non mi spara Una volta ogni morte di papa Come le altre Mi smitragliano un sacco E anche gli elicotteri Non ci credo Sapevo che c'era qualcosa Che stava andando storto Sapevo che qualcuno Mi stava sparando dall'alto Ma ne avevo ancora capito cosa Dannazione Cos'è che lancio contro gli elicotteri Le persone L'ho mancato alla grande Porca miseria Mi serve qualcos'altro da lanciare Cosa trovo? Cosa trovo? Intanto direi Fare una bella scorpacciata Qui perché la vita Mi sa che mi sta scendendo Fin troppo Quindi mangia 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 ancora Mio dio Come fare la spesa al supermercato E ora cerchiamo un modo Per sconfiggere questi elicotteri Ok un'altra cura Un'altra cura veloce Perfetto Corri 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 Porca miseria Nemmeno so dove sono Non ho il coraggio di guardare in alto Non ho il coraggio di fermarmi E guardare in alto Perché potrebbe essere la mia fine Vieni qua soldatino Ok via 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 Però allo stesso tempo So che distruggendo qualche altro Grattacielo extra Potenzialmente riesco a portare a casa Una vittoria Quindi via Oh yes Con il mio tiro esplosivo Incredibile Ho fatto un bel po' di danni E ora gente Occupiamoci di questi elicotteri Porca miseria Mi serve qualcosa da lanciare Tu sei perfetta Vieni qua Vieni qua Bella macchinita Bella ambulanza Prenditi questo Oh sì ne ho preso uno Ne ho preso uno Ci sono più elicotteri Purtroppo mauro almeno L'ho eliminato Perfetto Ho fatto un tiro incredibile Non so nemmeno come sono riuscito a prenderlo Ok anche tu bella camionetta Vieni qua Dove siete elicotterini Si sono nascosti Oh no 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 Sono messo male Come ne ho già sono messo Decisamente male Papati questo papati questo Oh mio dio Ma tu cosa sei ma Eh tezio vestito da scheletro Ok Imperfetto a te Halloween Va bene così Non posso perdere neanche un secondo Ok mi vado a pappare Questi due soldati Così mi prendo Un bel po' di energia Venite qua Ciccetti venite qua E poi devo assolutamente Sbrigarmi Devo distruggere i grattacieli Prima che gli elicotteri Mi prendano Perché è una questione di tempo Ormai Non posso eliminarli Sono troppi Sono 4 o 5 Devo assolutamente A girarli Stare dall'altra parte Del grattacielo E a quanto pare Mi sono stancato Nel scopio a correre Dai corri ciccio Stare dall'altra parte Il grattacielo E sfondarlo di botte Perché è l'unica maniera Per riuscire A vincere questa cosa Oltre che appapparci I militari Che si nascondono Qui dentro Salve Che piacere Dai dai Dove mancare pochissimo Porca misera Sto girando tutto attorno A questo grattacielo Cercando di Sì Ce l'ho fatta Sta crollando Ok teoricamente Questo era l'ultimo Da distruggere Per favore Per favore Dimmi Questa è una grande vittoria Una grande vittoria Per King Espy Ok è molto imbarazzante Suona male Ma concedetemelo Quindi gente Questo era un mostro simulator In realtà virtuale Con l'HTC Vive Non dimenticate Lasciatati sui mi piace Commenti Se volete altri episodi Come questo E noi ci vediamo La prossima volta Ciao Ciao